Il mangiare è importante oggi o no? E' importantissimo, se no non stare qua, se no Bontà Banfi che l'ho fatto a fa' per questo ho fatto un marchio mio che si chiama Bontà Banfi che andrà nelle grandi distribuzioni, molto probabilmente, anzi certamente, la Conad Ma Bontà Banfi prenderà soltanto quelle che sono le eccellenze di Puglia o qualcos'altro? Eccellenze innanzitutto, italianità, poi pugliesità e poi bontà, tutto insieme, però soprattutto prodotti pugliesi Quando è che parte? A febbraio Quindi ci sarà anche un sito internet, tutto quello che viene venduto attraverso internet, quindi e-commerce, tutto quanto? Tutto, tutto, alla grande, se no non lo farei E tua figlia? Benissimo Grazie a tutti